ario rade a sorpreis cammier place allora permessa io non so nulla di questo video quindi è tutta una sorpresa come lo sarà per voi no ecco già sta cosa qua non piace ci vedi sotto con quell'asolo lì mi vedi? no mi vedi? no andro non ti vedo pure schiaccia cos'è? andro il coltello devo farlo vedere davide non vedo devo farlo prima vedere la faglielo vedere andro non vedo chiudio non guardare andro allora se mi sembra l'odore mi tappi il naso chiude non vedo non vedo un po' pericoso arachidi non lo so non lo so anch'io che cos'è ti faccio sentire singolarmente maia mai far sentire un altro rotondo sono scritto in indiano un pisello si ma alza questo non ho la pipì non ce la faccio non guardare non guardo non guardo ti richiusi gli occhi dai le segua ecco è caduto da non so dove si adesso ti faccio sentire che schifo mio dio ma era enorme aprile un po' e se ti faccio sentire il secondo ma fammi fa ma la tia è stato sentire stavo esercato ahhh apri apri ah no davide davide mamma c'ho un pelo come era il cibo cattopi arachide o no anna non lo so e come non lo sai ve lo vedi se è un arachido o meno ah no non è un arachide no questo è un arachide Questa è una raccoglie Dà lo stesso sapore, è un'arachide pipì Anna Sono buonissimi? Sì Diventi ricco se le mangi E ceci, no i... Le lenticchie Cosa? Cos'era? Ma sì, ma tipo un pane Noodles, noodles Terzo giro Giù le mani Ma no, l'insetto Me la challenge Anna Mangia l'insetto Anna 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 Mangia la locusta No Gli figli di me No 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 Aia Anna Ferma Tira fuori il salame Vai la locusta mamma Fagli vedere se mi vuole bere Anna Non volete mangiarlo? No C'è un topoli? No Ma Ma tutta No Torni Una manciata No Torni Dai ma che schifo No 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 Sono serio Sì Tu lo mangi Andai Io lo mangio Se non lo mangi ti ho un pugno sul naso Allora pronta Allora pronta Ma che schifo dai Ne fai vomitare Ma te ne rendi conto Se l'ho mangiata Dai Manda mastica Non scutarla Ti potrebbe guardare il lomo della tua vita No vado Mi ha dato un verbo nei polmoni Ma mi è rimasto proprio il sapore in bocca Non vedo Cioè ci sono verbi ovunque Però pure di città No 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 così tanto Davide hai guardato brutta faccia No no Vai chiudi Mamma Pure di peperoncini E con questo breve video vi saluto E ci vediamo la prossima volta Sì Sì chissà Comunque non l'ho mangiata Ci sarà una vendetta Ciao Ciao Anche un piombaggio Anche un piombaggio